Siamo in via Galvani numero 191, stiamo facendo questo scavo, abbiamo 80 cm di suolo che vediamo qui, terreno molto arrossato, ricco di sostanza organica, con ghiaia e sabbia. E poi al di sotto abbiamo questo mistone con ghiaia media dai 5 cm di diametro medio e in una matrice sabbiosa. L'angolo a treta interno si gira dai 33 ai 36 gradi e è un buon sottosuolo come caratteristiche geotecniche. Lo vediamo qui illustrato in questa immagine, lo stato numero 2 da 80 cm a 3 metri di profondità.